Gli studenti dell'ITI, Leonardo Da Vinci di Pratola Peligna, dopo il sopralluogo della struttura e in attesa dei risultati tecnici del carotaggio disposto dalla provincia dell'Aquila, inizieranno l'anno scolastico con la didattica distanza. Il presidente della provincia, Angelo Caruso, ha richiesto la disposizione della DAD dal 12 al 17 settembre per gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Pratolano. Consiglio comunale straordinario a Pratola Peligna, con l'unico punto all'ordine del giorno, lo stato e la vulnerabilità sismica della struttura di Capocroce. Intanto precisiamo una cosa, si è determinato un clima di allarme intorno all'uso dell'Istituto, del Plesso. Ovviamente questo allarme ha generato preoccupazioni, incomprensioni e quindi era necessaria un'azione di chiarimento, che non si declina soltanto ovviamente con formalità, ma abbiamo ritenuto opportuno andare oltre, quindi andare ad indagare quelle che sono le parti che sono risultate un po' più vulnerabili e sostanzialmente sono le due scale di emergenza che sono poste agli estremi dell'edificio. Su queste due parti sono in corso queste verifiche, carotaggi e ulteriori azioni, che saranno poi oggetto di rielaborazione della vulnerabilità affinché si possa determinare il grado effettivo di vulnerabilità dell'edificio, perché tutto viene basato su elementi presuntivi che in realtà determinano un grado di valutazione inferiore, perché in assenza di conoscenze il dato di partenza si mette molto basso, questo è detto in maniera molto spicciola, molto semplice. Resta il fatto che se laddove si dovessero anche convenire soluzioni rapide, andremo persino a fare interventi, che sono interventi piuttosto molto agevoli, che l'ingegnere Petrella è interpellato e continuamente messo al lavoro su questa vicenda, ci prospetta in operazioni davvero semplici, per cui la funzionalità del plesso scolastico si andrà in qualche modo a definire nella integrità assoluta. a latere di questo poi il discorso dell'inomorante, per il quale proprio in questi giorni stiamo definendo l'utilizzazione, quindi la presa in carico di un edificio su Sulmona, quindi questo è un po' il dispiacere, il fastidio che rischiamo di arrecare un po' alle famiglie e che per qualche giorno probabilmente sarà necessario l'avvio in DAD. Noi speriamo persino che non sia una settimana, però a tutto concedere sarà la settimana prossima, non oltre.